Siamo qui con Celli dell'RTS Queens, partita tosta quest'oggi. Cosa non è andato e cosa invece è andato per voi? Potevamo fare molto di meglio, dovevamo passare il pallone di più, però abbiamo giocato bene. Perfetto, quindi comunque qualche aspetto positivo comunque c'è. Perfetto, allora grazie mille e un grosso in bocca al lupo.